Lo Stato italiano ha perso l'arbitrato con la società inglese Rockhopper ed è stato condannato a pagare 190 milioni di euro alla multinazionale che a largo della costa dei Trabocchi avrebbe voluto sviluppare il progetto di estrazione petrolifera noto come Ombrina Mare che però fu sventato per la ferma opposizione e insistente battaglia delle associazioni ambientaliste e dei cittadini delle località interessate che non avrebbero voluto vedere deturpata una location tra le più suggestive d'Abruzzo. Proprio il primo agosto 2016 gli ambientalisti si ritrovarono su un Trabocco per brindare alla fine di Ombrina. Oggi però c'è un conto salato da pagare come ha reso noto ieri una delle figure in prima linea per questa battaglia la docente universitaria Maria Rita Dorsogna che punta il dito contro i tre arbitri che hanno preso la decisione motivata dal fatto che l'Italia ha violato un trattato l'Energy Charter Treaty. Se da un lato ride Sam Moody il CEO della Rockhopper cui lo Stato deve quella ingente somma entro appena 120 giorni dall'altro la Dorsogna rivendica il fatto che l'Abruzzo è stato salvato dalle trivelle mentre dal WWF arriva un appello anche se i margini sono molto stretti affinché le istituzioni italiane impugnino la decisione. Il centro per le controversie ha ritenuto che l'Italia avesse violato il trattato sulla carta dell'energia che il nostro Stato aveva firmato nel 94 e l'Italia è uscita da questo trattato nel 2015 ma è ancora soggetta a mantenerne alcune condizioni. Già ricordiamo che con la legge di stabilità del 2016 lo Stato italiano aveva di fatto vietato la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa. Da quello che si legge nel comunicato stampa della stessa società lo Stato italiano ha 120 giorni per poter opporsi a questa decisione. Ci auguriamo che lo Stato lo faccia e che accolga la volontà del territorio, la decisione presa dagli enti territoriali di andare contro questi progetti che tra l'altro ormai sono obsoleti e dobbiamo guardare all'uscita dal fossile, quindi puntare su impianti che riguardino le energie rinnovabili.